box popoli il podcast buongiorno a tutti ben ritrovati a box popoli il podcast ciao Elena ciao Antonella buon anno a tutti buon anno assolutamente siamo nel 2023 non ci sentiamo dallo scorso anno esatto e la puntata di oggi parla proprio di questo no i buoni propositi per il nuovo anno una consuetudine no di tutti e quindi insomma visto che siamo già qui a parlarne io direi di iniziare la puntata dicendo quali sono i nostri allora quali sono i tuoi buoni propositi allora ti stupirò per questo anno non ho buoni propositi perché tutti gli anni mi do diciamo una to do list di cose che vorrei fare o nuove modalità di essere e non le rispetto mai ok allora quest'anno ho detto non me lo dico lo penso ma non lo dico a nessuno non lo scrivo e spero che a fine anno avrò fatto delle cose che vorrei fare quindi non ho un vero buon proposito preciso ok quindi possiamo dire che il tuo buon proposito riuscire a mantenere la possibilità di non avere buoni propositi esattamente in un modo o nell'altro c'è sempre un obiettivo sì in realtà sì però tipo mi ricordo che gli anni scorsi anche quando ero bambina con le mie amiche scrivevo proprio to do list di cose che volevo fare durante l'anno ad esempio andare al sushi o ma proprio nel senso cose molto generali ma anche con le mie amiche facevamo to do list insieme di amicizia fai dire andare a festival non so di che c'è che fanno a milano andare al sushi assieme andare a fare questo e quindi facevo proprio una to do list scritta che a fine anno neanche mi ricordavo in realtà di aver scritto però adesso non lo so non ne ho uno preciso a tante cose che vorrei fare ma anche su me stessa quindi mi son detta so che ho dei buoni propositi ma non li esplicito non li scrivo eccetera tra l'altro una delle particolarità una delle peculiarità dei buoni propositi è proprio quello di non realizzarli esatto infatti fa proprio ridere quello in realtà capito per quello che poi sono diventati famosi perché io credo no che non sia poi così popolare un qualcosa che è un buon proposito che riesco a raggiungere no ad esempio uno dei must è la palestra oddio tra natale e le feste ho mangiato tantissimo e devo assolutamente rimettermi in forma smaltire tutto il pranzo e cene festivi quindi gennaio praticamente i titolari delle palestre si arricchiscono però in realtà non è che si arricchiscono così tanto perché poi quei soldi servono per campare il resto è l'anno in cui non viene più nessuno a parte i soliti no perché comunque vero a gennaio a settembre perché anche dopo l'estate settembre gennaio sono i momenti dove rinizio ad esempio io più che gennaio mi do come inizio settembre ho sempre pensato con l'inizio della scuola adesso con l'università io il vero rinizio non è tanto gennaio ma settembre perché a gennaio mi sento nel mezzo del percorso che ho iniziato a settembre capito sì 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 ma questo poi cambia quando entri nel mondo del lavoro infatti lo so bene infatti anche io quando andavo a scuola così diciamo questa cosa settembre anno scolastico perché un po il lavoro no dello studente è questo per cui il suo anno di lavoro comincia a settembre invece poi le cose cambiano cambiano ma in realtà poi non c'è un inizio e una fine dell'anno di lavoro perché si lavora sempre poi c'è quella pausa in cui ti concedi delle ferie dove in realtà non sono neanche vincolanti sono in ferie anche a febbraio anzi ve lo consiglio che c'è meno gente i costi sono più bassi usate le basse stagioni e ecco quindi sicuramente quello difficilmente si vede gente che veramente poi riesce a farcela ma esatto ci sono sicuramente io non faccio parte di quelli ma nemmeno io in realtà quindi però chi se ne frega ecco non so se c'è uno che c'è uno delle foglie proprio davanti davanti a togliere tutte le foglie sì sì hanno deciso no perché l'hanno buttate tutte giù qua adesso devono togliere sono in quattro in questo momento non so se si sento oppure no spero di sì ho spento speri di sì sì ti piace il sottofondo spero che non si senta e che si senta la tua voce avevo mentalmente in testa speri di sì perché trovi particolarmente piacevole magari è un sottofondo capito musicale da aggiungere alle puntate sì sì non male ma tra l'altro magari qualcuno potrebbe provarlo come ASMR no avere il il suono del delle foglie via le foglie con una macchina inquinante rumorosa molto bene bello allora i buoni propositi e uno dei buoni propositi più quotati è quello di smettere di fumare secondo me allora è un buon proposito importante perché ne va della salute della persona però secondo me il fatto che tu dici quest'anno voglio smettere di fumare in realtà ti ostacola nel tuo obiettivo nel tuo intento non so come dire a volte più dici che devi smettere di fare una cosa più diventa difficile quasi smettere di fare quella cosa lì no quindi non lo so può essere un buon proposito certamente sì per la vita non per l'anno quindi non è che dici un buon proposito per quest'anno ma io direi un buon proposito per me sarebbe di smettere di fumare però senza la pressione di dire dopo domani capito perché altrimenti se ti metti questa pressione qua poi non lo fai quindi piuttosto rimanere nel generale forse infatti io tipo sai perché non ho dei veri buon propositi specifici perché più penso che ho qualcosa da rispettare più mi viene ansia e pressione e alla fine non li rispetto invece più rimango generale tranquilla con me stessa e dire sì vorrei fare questa cosa qui magari poi riesco a raggiungerla effettivamente però questa è una mia considerazione più personale comunque poi ci sono anche quelli che ci riescono io credo che anche per noi la nascita perché esistono queste cose dei buoni propositi c'è proprio questo minuto che il nuovo anno è qualcosa di nuovo anno nuovo vita nuova il famoso proverbio però anche da me mi pare sempre uguale tutto quanto ma vabbè io ce l'ho fatta a un certo punto il mio buon proposito era sempre quello di smettere di fumare io ho fumato per 18 anni e ogni anno io voglio smettere di fumare ovviamente non ci riuscivo mai poi finché nel 2020 ci sono riuscita anno della pandemia anno della pandemia tra l'altro è straordinario perché uno dice sai è chiuso in casa infatti solitamente aumentano capito? no no invece e tra l'altro quell'anno è stato il primo anno in cui non lo avevo neanche messo a buon proposito no ma perché mi ero arresa e poi era stato un anno particolare così invece di andare indietro ho detto no io dovevo evolvere devo sconfiggere questa cosa e in realtà ho smesso di fumare in una maniera inaspettata perché in realtà appunto non l'avevo nemmeno deciso no quei libri smettere di fumare ma sì che cavolate in realtà poi per me è stato salvifico ho smesso di fumare quindi il problema qual è che non so più per 18 anni avevo quello io mi nascondevo dietro questo buon proposito ora che l'ho realizzato io sono in crisi non sai trovarne un altro non ho altri buoni propositi cioè questo non significa che io sia perfetta sì 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 significa che sì una cosa magari così importante da proprio essere determinata nel raggiungimento sì ci sta sì poi sicuramente ed è uno dei buoni propositi che sento di più sia tra quelli che ci hanno risposto alle box sia a persone che chiedi è la felicità essere felici e vabbè insomma adesso ci abbiamo proprio dentro dentro lo studio facendo delle ricerche ho visto su internet che ci sono i 15 buoni propositi più quotati almeno per il 2023 quindi aggiornati insomma ok e fra questi abbiamo il numero uno che ma io la vedo veramente difficile usare meno lo smartphone no secondo me è impossibile in realtà ma non tanto perché magari cioè stiamo lì a giocarci ok ma anche proprio per lavoro secondo me adesso come adesso è un po' impossibile staccarsi dallo smartphone no no ma poi tra l'altro mentre diciamo questo lo leggiamo dallo smartphone quindi cioè no è troppo è troppo inserito nella quotidianità poi magari si può utilizzare meno però non secondo me non proprio in un quantitativo di tempo così tanto diverso usare meno poi su quale parametro usare meno generico imparare a fregarsene ecco questo mi servirebbe e mi piace un po' farsi scivolare addosso le cose non prendere tutto sul personale questo è bello mi piace poi eliminare ciò che non serve adesso bisogna capire poi qua se si intende metodo maricondo usare le scatolette tutto in ordine o parliamo anche a livello umano forse ognuno dà il significato ciò che non serve esatto ciò che non serve vivi e non vivi lascia te dormire di più dormire di più ha un bel proposito quindi fare di meno e dormire di più che è rilassante imparare una lingua nuova questo sì infatti guarda l'unico forse obiettivo che è quest'anno riprendere bene le lingue perché io ho fatto il linguistico e quindi un po' mi manca parlare magari non dico quotidianamente però con più costanza anche ascoltare serie tv in lingua strautile e serve sempre ecco portare a termine un progetto iniziato lo scorso anno ebbè è questo ci sta ci sta quindi non è fino il 31 dicembre fanculo tutto esatto ciao a tutti me ne vado ripartiamo da zero allora poi dare libero sfogo all'auto creativo bello questo è stupendo questo è forse l'obiettivo che non mi sono detta all'inizio dell'anno scorso ma che alla fine a fine del 2022 mi son detta sei capito il ragionamento lo adotti anche tu per il 2023 questo sì cioè una volta più che altro ho visto proprio che nel 2022 ho dato spazio alla mia creatività è stata una cosa che io ho sempre ricercato e nel 2022 sono riuscita a farla e sono successe cose belle esatto però senza essermelo detta capito quindi vorrei continuarlo ora sì sì su questo molto bello bene 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 e invece smettere di procrastinare all'ottavo posto di questa classifica eh questo lo farò nel 2023 oh no esatto siamo nel 2023 esatto poi ecco fare 10.000 passi al giorno i famosi 10.000 passi io queste cose non le capisco ma senti io io questi 10.000 passi non li vedo come un obiettivo quotidiano da dover raggiungere però però farà sicuramente bene però certo certo ma leggere di più è uno di quelli io non so perché qua è lo decimo posto ma in realtà anche nel nostro sondaggio anche parlando con altre persone è uno di quelli che più quotati leggere di più qualunque cosa ma leggere di più e questo è molto utile perché leggere di più significa anche conoscere diversi punti di vista viaggiare per il mondo a volte senza muoversi e rilassarsi perché spegni il cervello perché stai usando le no allora spegni il cervello perché non stai pensando magari a tutta la vita tutti i drammi esatto i problemi però accendi tantissima creatività anche perché immagini no ma è bellissimo è veramente viaggiare stando fermi ma anche proprio formarsi con se stessi alla fine perché un libro ti dà tantissime cose quindi questo dovrebbe essere uno dei primi non è una cosa che è il decimo posto prima i 10.000 passi ma è che leggere i libri undicesimo posto sì ricontattare vecchi amici ok bello sì ah tipo ah ma non ti sei fatto più sentire beh sai era uno dei miei buoni propositi ricontattarti ora ciao oppure tutte quelle volte che dici sì sì no ma ci vediamo ci vediamo poi non ti vedi mai o ti chiamo eh ti chiamo esatto ci sentiamo o ci andiamo a bere un caffè uno di questi giorni o non fare come sempre che dici poi non ti fai sentire no 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 ma sì ma no no veramente guarda che ci tengo eh quest'anno è il vostro momento sì fatevi sentire forza anzi sapete cosa dovete fare quando incontrate quella persona andate subito subito a bervi questo caffè dai andiamo se non bevete il caffè fate quello che vi pare ma andate ah vabbè fai qualcosa no dodicesimo posto fare qualcosa che pensavi di non aver mai fatto cioè aspetta riformuliamo fare qualcosa che pensavo che non avrei mai fatto ah ok tipo ad esempio budget jumping non farò mai esatto e poi magari ti succede di farlo bello questo ok secondo me lì sono più occasioni che ti capitano e tu hai il coraggio di buttarti ok però non è secondo me letteralmente buttarsi con l'elastico al piede sì sì e budget jumping no e quello no io non lo farei mai magari ti si capita cioè hai l'occasione e decidi di farlo e lo farai no no ma pure con l'occasione scappo figurati no io ho troppa ho cioè ho troppa paura che tipo mi si sfila il piede dalle elasti ma va no hai fatto tutto apposta ho capito ma no 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 scusate ma non farò mai budget jumping e neanche paracadutismo neanche parapendio e neanche il deltaplano ma il deltaplano poi ma tu sei solo appoggiato o hai anche qualche sicura cioè tipo se magari mi scappa la mano mi sto grattando la testa ci sono sicura ci sono sicura che mi aggrappa al deltaplano cioè tipo posso pensolare ma non lo so non lo so non l'ho mai fatto ma vabbè non ce la posso fare va bene allora abbiamo il tredicesimo posto oh questo mi piace smetterla di criticarmi cioè parlo perché sono persone che rispondono quindi parlano in prima persona ok se stessi quindi sì sì smetterla di criticarsi bello perché secondo me allora qualsiasi buon proposito che è funzionale alla propria persona fa bene alla propria persona però se non si sta bene con se stessi puoi fare qualsiasi cosa comunque non stai bene quindi anche questo non criticarsi è proprio un dire volersi ancora più bene smetterla di continuare a stare a giudicarsi a dire non sono abbastanza non ho fatto questo cioè stare bene con se stessi è secondo me l'obiettivo primario di tutti ecco ancora prima sempre devi prima di 10.000 passi prima fatti 10.000 passi e poi ecco poi abbiamo al quattordicesimo posto non prendere sempre tutto sul serio questo sì ma infatti c'è arrivato anche da Instagram vorrei essere meno permalosa esatto si lega bene esatto è sempre un modo di lavorare su se stessi magari si sa che ma poi perché ci stai male capito se sei permaloso comunque sei una persona che prende tutto sul personale togli energie nel riuscire diciamo a tollerare magari particolari emozioni quindi magari è anche proprio un lavorare su se stessi che porta poi a stare meglio quindi riconosco che sono un po' permalosa quest'anno cerco un po' più di fregarmene sì anche perché anche lì secondo me poi si riallaccia sempre a smetterla di criticarsi no perché credo che sia anche un problema di quel genere lì ok io sono permalosa se credo che la critica che mi viene fatta sia reale sì esatto cioè se io so che non è vero quello che mi stanno dicendo me ne frego esatto ma anche se ma chi se ne frega cioè secondo me vivere la vita un po' più alla leggera prendersi meno sul serio è fondamentale anche perché voglio dire già dobbiamo fare un sacco di sfide ogni giorno se poi ci mettiamo a prenderci quello che dicono gli altri infatti un'altra è stata proprio il buon proposito è vivermi con più leggerezza esatto cioè secondo me la parola leggerezza è proprio azzeccatissima che bello l'ultimo posto quindicesima classifica da 15 posti lamentarsi di meno sì tantissimo lamentarsi toglie tantissime energie che butti nell'aria e non servono a nulla quando invece potresti utilizzarle per fare qualcosa di per se stessi non dico di produttivo perché non per forza devi fare qualcosa di produttivo ma qualcosa di utile per se stessi o per gli altri perché lamentarsi non porta a nient'altro cioè se hai bisogno di dire un qualcosa di preciso vai dalla persona o da da chi è interessato e si parla però stare a lamentarsi così del nulla non porta a niente è tempo sprecato ecco poi dopo c'è neanche uno interessante e poi questo potete approfondirlo insomma uno dei buoni propositi tra partner no sì ecco sapevo adottare un'attitudine romantica wow che vorrà dire io ad esempio questo so già che non lo potrò mai raggiungere sono proprio non romantica interessante proprio ma la cosa che mi interessa è proprio il fatto che ci hanno pensato di questa frase devo adottare un'attitudine più romantica nel 2023 esatto allora sentiamo sentiamo questi contributi vediamo cosa hanno da dirci il mio buon proposito di quest'anno è cercare di essere costante in qualsiasi progetto attività decida di intraprendere ci sta la costanza nel dire ho tante cose da portare avanti e voglio avere costanza in tutte queste cose non abbandonarle quello che un po' anche diceva prima uno degli obiettivi no magari aver iniziato già un qualcosa e portarlo avanti magari terminarlo quest'anno capito può essere l'università che può essere ma qualsiasi progetto in generale anche di lavoro con se stessi secondo me la costanza la determinazione sono le chiavi per portarlo avanti perché se no se decidi subito di gettare la spugna non lo termini ovviamente il progetto che vuoi portare avanti sì poi appunto dipende anche da quali sono tra l'altro a proposito di questi sempre su Instagram nella nostra box ci hanno scritto riuscire ad entrare nel mondo del cinema o video in qualunque modo eh sì ma a me interessa l'ultima frase in qualunque modo cosa significa? in qualunque modo secondo me è proprio la passione che sta parlando cioè del dire io voglio talmente entrare in quel mondo che in qualunque modo cioè sui social che mi chiamano da qualche parte che inizio su YouTube un percorso in qualunque modo cioè aprirsi tante strade secondo me vuole dire e poi essere felici e poi leggere almeno un libro al mese ci è arrivato anche questo sì noi lo supportiamo e leggere un libro che poi sia al mese o comunque come preferite voi però leggere esatto leggere di più fa benissimo fa benissimo alla mente a voi come persone e soprattutto anche alla vostra propria mentalità aiuta ad aprire un bot a fare anche più collegamenti ad essere più creativi e ti dà soprattutto nuovi modi di vedere la realtà che tutti i giorni vedi la tua quotidianità a volte basta un libro che te la reinterpreta o ti dà nuove visioni e questa è una potenza assurda poi un'altra cosa che era uscita sia appunto quello dell'essere felici e ok io ascolterei un altro audio che ci è arrivato interessante allora per il nuovo anno vorrei coltivare più le mie passioni in primis il dipingere che ha sempre fatto parte di me ha fatto parte di me soprattutto l'anno scorso e che ho accantonato quando ho iniziato a lavorare che sto tuttora abbastanza accantonando per mille altre cose che dopo tutto forse non sono nemmeno così importanti quindi diciamo che il dipingere ossia il coltivare le mie passioni porta con sé il dar priorità a delle cose che sono importanti per me dar meno priorità ad altre cose che sembrano solo apparentemente interessanti o importanti ecco questo mi è piaciuto come riflessione perché allora è partita da dire un buon proposito quello di coltivare di più la mia passione che è il dipingere quindi portare avanti una passione benissimo ma la riflessione che mi piace è fare più cose che fanno bene a me e che sono importanti per me piuttosto che dedicarmi a qualcosa che non è importante ok o che è più importante per gli altri che per me intendo dire cioè anche dedicarsi prendersi cura del tempo per se stessi e prendere dei momenti o coltivare una passione ma anche magari l'allenamento può essere un modo per prendersi cura ma dedicarsi più cose per se stessi che soprattutto coltivare diciamo attività che si reputano importanti per se stessi secondo me è fondamentale perché ti aiuta anche veramente a non perderti via con tutte le cose che ci sono da fare ogni giorno e con la freneticità della vita quindi è un modo anche per mettere un attimo pausa e dire ok respiro mi è arrivato il mio buono il mio buon proposito per il 2023 è mandare più spesso le persone a schiacciare i ricci col culo schiacciare cosa? i ricci col culo i ricci col culo questo mi piace cioè è un bellissimo modo per dire no ma perché io sto immaginando quindi immaginati no tu sei lì che mi fanno una cosa seria e mi rende un messaggio così sì 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 ma è però anche vero bisogna anche avere il coraggio di mandare le persone a schiacciare i ricci col culo totalmente totalmente no tipo secondo me un bel messaggio da veicolare è che c'è sempre il giorno per ripartire c'è sempre il giorno per dire da oggi veramente faccio questa cosa o smetto di fumare o smetto di fare quest'altra cosa qui e dipende tutto da se stessi da sentirsi pronti da avere le energie che ti permettono di portare avanti un nuovo percorso quindi secondo me questo è da ricordare abbiamo altre audio? sì abbiamo un altro audio breve questo in propositi per il 2023 beh uno sicuramente quello di cercare di non perdere mai di vista le cose importanti molto simile molto simile il dire focused sul mio obiettivo su quello che voglio fare senza perdermi via in attività futili abbiamo qualche buon proposito divertente che arriva da no sì non so se divertente perché poi arrivano anche i messaggi privati anonimi così smettere di drogarmi ok è un ottimo buon proposito direi questo direi che è fondamentale però proprio diretto così è stato detto smettere di drogarmi ok ok insomma giusto smettere di fumare è altrettanto importante questo sicuramente sì ok sì sì ecco e tu hai un buon proposito quest'anno? a proposito di smettere di drogarsi no 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 in generale in generale io il mio buon proposito è realizzare una serie di progetti che ho sempre nel campo del teatro nel campo della radio nel campo degli eventi della cultura insomma che questo è a proposito di passione qualcosa che mi porto dietro riuscire a fare della passione il proprio lavoro quindi sono stata molto fortunata ma con tanto sacrificio senza grande fratello e senza tiktok esatto infatti anche un'altra cosa che il raggiungimento di un obiettivo è secondo me è doppiamente soddisfacente giusto? mh se comunque comporta un percorso dove ti devi impegnare comporta dei sacrifici così che quando raggiungi quell'obiettivo lì ti senti doppiamente realizzato diciamo così cioè non tutti gli obiettivi che le persone vogliono prefissarsi implicano che dall'oggi al domani l'hai raggiunto quell'obiettivo nel senso ci può essere quello che dici voglio andare a fare bungee jumping mi scrivo vado a farlo obiettivo raggiunto invece altri del tipo non so allenarmi di più l'allenamento però non comporta che ti alleni un giorno a obiettivo raggiunto vuol dire che tu in un periodo medio lungo con costanze e sacrificio ti metti lì e ti alleni quindi cioè il raggiungimento di un obiettivo che si dà non è proprio una cosa così alla leggera comporta comunque uno sbatti dietro nel senso poi appunto se sei tanto motivato riesci a portartelo avanti altrimenti molti abbandonano il mio buon proposito per il 2023 è riuscire a lasciare il mio ragazzo aia avrei voluto dei dettagli in più però ma scusami ma che obiettivo è? perché se lo merita ma scusami è un obiettivo nel senso è una scelta non è che te la devi più magari non è il coraggio ti spiace ho capito però non è facile lasciare no lo so lo so benissimo però magari ci prova e dice mamma mia e parlare di più con il mio gatto bello è sempre un modo e questo è molto interessante buoni propositi per il 2023 quando vado al supermercato non far spingere sempre il carrello agli altri ma ogni tanto farlo io questa la trovo super originale perché io penso ad esempio molto spesso allora due cose che vorrei fare quest'anno quando vado al supermercato primo farmi una lista perché io dico sì sì mi ricordo tutto arrivo non prendo mai quello che mi serve e poi torno a casa dico e piate pumarolle esatto non ho mai e poi un'altra cosa entro e dico ma sì non mi serve il carrello il cestino tanto non devo prendere tante cose arriva la cassa che sono sommersa di cose e mi pento perché sono lì che sudo con tutto quindi i miei due buon propositi al supermercato per la categoria supermercato ci sono questi e poi anche tirarmela di meno ci sta almeno ha riconosciuto un lato un po' e poi fare più sesso questo direi che te lo auguro te lo auguro direi che è un ottimissimo buon proposito fare più shopping ok non si parla mai dei cattivi propositi non avrebbe senso voglio fare una rapina questa poi mi scrivono ancora nel 2023 spero di trovare più cariche batterie quando il telefono è scarico si condivido tantissimo questo è un buon proposito che poi non so se deve avvenire tipo cammino per strada oh mio dio il telefono guarda sul pavimento si esatto così a caso una più power bank insomma esatto e imparare a cucinare sicuro qua c'è uno che ha un buon proposito vabbè mangiare più bresaola no io invece probabilmente perché la bresaola? beh infatti non lo so magari perché sa che fa bene non lo so io invece forse mangiare meno carne comunque mi fa molto ridere che ho iniziato dicendo ti stupirò io non ho buoni propositi sei piena di buoni propositi e continua a dire cazzo che continua hai una classifica personale dire più no fa benissimo fa benissimo veramente serve a volte bisogna avere coraggio ma un no serve e questo trovare un fidanzato o una fidanzata o comunque qualcuno che mi sopporti ok devi trovare qualcuno che ti sopporta dai no devi incontrare persone se no puoi trovare andare in terapia e basta tipo esatto esattamente e preparare più cene per gli amici questo è bello secondo me la cena è un momento di condivisione convivialità infatti è anche un prendersi cura delle relazioni la puntata finisce qui noi ci sentiamo la prossima settimana dove tra l'altro avremo anticipiamo già avremo come ospite l'assessora alla cultura e le politiche giovanili del comune di Trento Elisabetta Bozzarelli per cui vi invitiamo anche a scriverci su Instagram a boxpopuli underscore it anche per email anche per email di posta boxpopuli chiocciola alternart punto it così voi potete fare delle domande avete la possibilità comunque di fare delle domande richieste richieste e che cosa manca a Trento o cosa andrebbe potenziato a Trento che bello questo nome però era bello il sottofondo ci stava l'avrei lasciato andare nel momento richieste ecco quindi avete questa grandissima possibilità vi mettiamo in contatto quindi con cioè vi mettiamo in contatto nel senso che i vostri audio i vostri vocali i vostri messaggi li leggeremo in puntata all'assessora per cui potrà rispondervi direttamente quindi approfittate di questa opportunità non fatevela scappare perché poi si dice sempre i ragazzi e ragazze vogliono questo questo e quell'altro noi di boxpopuli stiamo facendo un culo così per riuscire ad aiutarvi e cogliete le opportunità ricordatevi anche le cassette che ci sono nei bagni delle vostre scuole metteteci dentro i bigliettini fate le domande esprimete i vostri dubbi approfittatene veramente perché boxpopuli è qui per voi esattamente vi ricordiamo che poi boxpopuli lo potete ascoltare su tutte le piattaforme streaming quindi da Spotify Apple Music Amazon Music Google Podcast Audible cioè dappertutto dappertutto su anche il sito di Samba Radio che ci permette di registrare queste puntate e ringraziamo l'ufficio Svolta che invece sostiene questo progetto va bene abbiamo detto tutto il buon proposito del 2023 è fare un sacco di podcast un sacco di radio esattamente noi vi salutiamo ciao a tutti ciao ciao e a tutte boxpopuli il podcast ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti